Siamo con Duiglio Birindelli, complimenti all'Agrigento, te lo dice un legnanese di Legnano Web TV, avete giocato bene, avete meritato. È stata una partita molto dura, per fortuna siamo riusciti a difendere forte che è la nostra chiave per vincere le partite, ci siamo riusciti e ora aspettiamo la finale. Contro Ferrara come la vedi? Noi non l'abbiamo vista, però stasera avremo il scouting report, il video, tutto, non sarà facile, queste quattro squadre sono tutte prima fascia e anche potevano tranquillamente fare la B1. Grazie, bocca al lupo!